Ecco Piazzola di San Vito, un caso aperto da quasi dieci anni. E' già perché è dal 2015 che la questione è nota e risaputa, come abbiamo raccontato, carte alla mano, finita evidentemente in qualche cassetto a prendere polvere, è esplosa durante la campagna elettorale e in questi giorni, con le ruspe in azione e le proteste dei residenti, a cui il sindaco Nicola Finco risponde così. E' da quasi dieci anni che si parla della Piazzola di Via Cogo, oltretutto un'area identificata dall'allora vicesindaco Campagnolo, che oggi tanto si lamenta e tanto si mette di traverso a questo tipo di realizzazione, ma ricordiamoci che io sono sindaco da poco più di un mese, mi sono trovato praticamente alle cose fatte con delibere della giunta comunale, io praticamente ho 20 giorni di tempo per decidere se riesco a spostare, in accordo col Consiglio di Bacino e con Etra, questa eco Piazzola in un altro sito, ma la cosa non è assolutamente semplice. Poco tempo per agire e tanto tempo perso, soprattutto negli ultimi cinque anni. Io posso capire le rimostranze dei residenti, quello che non accetto è che oggi tutte le responsabilità vengono adebitate al sottoscritto, perché io sto cercando una soluzione, qualcun altro in nove anni o ha dormito, oppure ha condiviso la scelta di fare questo tipo di eco Piazzola in Via Cogo. Finco, che mantiene viva l'ipotesi fincato, sottolinea come si possa eventualmente lavorare su opere compensative per venire a capo della situazione, c'è da valutare poi anche l'aspetto legato al finanziamento dell'opera. Stiamo parlando di un importante contributo che ci è stato concesso dal Consiglio di Bacino e ovviamente quello che dobbiamo fare come amministratori è permettere che questo tipo di finanziamento si concretizzi, altrimenti noi potremmo avere dei problemi da un punto di vista contabile, in quanto noi andremo a rinunciare a un importante finanziamento. Due, si andrebbe a creare un precedente pericoloso, perché rinunciare a un finanziamento di questo tipo potrebbe in futuro creare delle problematiche nel caso in cui il Comune avesse bisogno di altri contributi per altre aree della città. Mi auguro che anche col quartiere San Vito si trovi un accordo, perché i toni che ho sentito in questi giorni sono toni che considero anche spreggevoli nei miei confronti, in quanto, ripeto, sono sindaco da un mese e un sindaco da un mese non può risolvere i problemi che in dieci anni non sono stati risolti.